A via a tutti ragazzi sono Alessio PCM e vi do il benvenuto al bentornato sul mio canale e oggi continueremo il nostro let's play con Game of Thrones della Telltale Games e sono molto curioso di vedere come andrà avanti e spero che lo siate anche voi mi raccomando prima di iniziare mettete qua sotto un bel mi piace per supportare il let's play iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e consigliate il canale da amici condividendo il video ma che dite cominciamo subito? si perchè no vediamo un po' effettivamente che caratteraccio in ogni caso avete sentito quello che ha detto siamo degli uomini, dei guardiani della notte e adesso possiamo finalmente pisciare dove vogliamo ah questo è il nostro zio aham bene bene aham bene bene però vuole qualcosa di sicuro ah lo devi informare ah l'ha sentito effettivamente effettivamente bravo dici cosa dobbiamo fare e noi lo faremo il bosco di ferro il bosco di legna deve essere protetto cazzo sbagliato dovevo premere quello sotto vabbè devo dire quello sotto dovevo dire quello sotto ragazzi assolutamente questa è interessante come appunto and then e poi e lo faremo all'ora una mappa spero che sia una mappa una mappa questa mappa è solo missing grumpkins e snark ma questo non può essere reale castelli rovino questo è il marco questo è il marco Talia mi ha dato questo prima che mi riusco vediamo un po' per il drago dei ghiacci questo è molto interessante che ne sappia qualcosa anche la ragazzina non penso non ho idea che questo era dentro non ho capito una mappa vediamo ok per soltare la mappa vediamo ruotiamolo a sinistra ok devo ruotarlo a destra lo sapevo ancora a destra è perfetto è perfetto è perfetto è perfetto è perfetto ci sta perfettamente dentro interessante molto interessante scusate ragazzi proviamolo qua questo forse però nessuno sembra coincidere eh ho sbagliato nessuno sembra coincidere propriamente con questo si proviamo in un'altra maniera vediamo ah ok devo girarlo da tutte le parti continuiamo a ruotarlo a destra ma così assolutamente oh è la tutta la mappa che deve tornare vai geniale non ci sarei mai arrivato dove è la mappa uncle quale sia questo luogo il nord deve essere qui c'è solo un modo di trovare eh prendi questa mappa tutto ciò che abbiamo qui dovrà dependere speriamo ragazzi ok i guardiani della notte però oh grazie dicevo ok i guardiani della notte però i forse sono quello che importa davvero alla fine noi siamo venuti qua oltre che per scappare per una missione bello comunque mi piace come come vestitura da corvo no quello no dovevo usare la prima risposta secondo voi ragazzi ho sbagliato sperando sperando che l'adruncolo non ci freghi non ci freghi niente ah tra l'altro prima se avete sentito un puk di steam è perché uno di voi mi ha mandato un messaggio forse si vede anche non so adesso se la registrazione lo fa vedere o meno lo scopreremo dopo si bellissimo fra poco arriva un ottimo momento ragazzi che bello siamo stati un po' freddi non ci stavamo a rifare da noi stesse ma è un vecchietto è un vecchietto vai marjorie non lo noterà per un po' di minuti più lunghi potresti fare un'escusa per me per favore vai vai allora sarà bene la bambina è ancora giorni grazie mira ho pensato che potrei contare per te speriamo che ce la faccia ecco il ragazzino vediamo cosa ci vuole dire di sicuro qualcosa di importante andiamo proprio in incognito agente segreto che ci vuole per te Speriamo Già fatto E anche la guardia Speriamo Ma non ne vedi più problemi E io... Speriamo in questo momento Perché mi aiutarti? Cosa significa? Sono un amico, signora Mira Mi nome è Tom Speriamo un altro, o che sono due le nostre Che avevi fatto anche l'interno? Adron mi ha detto Ci sono persone che potrebbero aiutarti Ci sono persone che vogliono aiutarti Ci sono qui per sicurare che questo succede Cazzo dovevo intrattenere Marjorie per lei No, niente triste Mi sembra una buona scusa Ragazzi Spero di aver fatto le scelte giuste Wow È molto difficile Bella Bella Ma solo per sicuro Mi sembrava Mi sembrava Sì Mi sembra Mi sembra Mi sembra Mi sembrava Mi sembrava E ci saranno Mi sembrava E ci saranno Mopendo le stagioni Se mi mi sembra Mi chiede Ma anche Mi sembrava Mi sembrava Si Mi sembrava Si Si Mi sembrava 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 Tyrion Mitca Mitca Con tu e Tyrion Cosa si fai Si Si Se Si Sucre Tyrion Si 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 Non sa niente Addirittura Non è mia intenzione Spero Oh, madonna Che sbatti, ragazzi È una rottura di paga In realtà avrei dovuto insistere Per essere mandata a casa Mandato, mandata Adesso, femminile, maschile È variabile Però non era neanche una brutta proposta Cioè, che minaccio Mi mandi a casa Quando sono quasi nostalgia Uh, battaglia Interessante Asher Madonna, che bordello Ah, era un sogno Peccato Ok, siamo di nuovo Di nuovo Di nuovo con Roderick a Castelferro Che cazzo stanno facendo No, ti prego Non mi far fare il pezzo Far fare il pezzo piedi No, dai Non ci vuoi Vediamo un po' No, bene Ok, almeno questo me lo schippa Adesso vediamo cosa vogliono Sti diavolo di White Hill Che per l'amor di Dio Gli sbudellerei Dal primo all'ultimo Che cazzo stai facendo? Ti tiro il bastone in faccia Anche una sprangata in faccia No, col cazzo che mi inginotto stavolta Cocchi Roderick We used to call you Swinging your prick round Lording it over my family Now look at you Eh? Roderick the Ruined I hardly recognize you But the name fits, don't it? Pathetic I've had enough of this, Grif What are you trying to prove here? I had to get your attention, didn't I? Always so busy Beating your own chest, Roderick I don't think he gets it No, Lord I don't think he does Your brother Ethan didn't get it either You bite your tongue I am in charge now And the first thing you need to know Is that if I am not happy No one is happy So my men are taking over your great hall That's where walk water from now on What you can't? You're like, take a hole through me I won't have my men sleeping out in your barn In shit and filth Maybe that's how foresters live But not us I'll take care of my house You take care of your men And let us keep them apart I wasn't fucking asking, Roderick And what's more You will treat my men right I've heard what you've done Pushing wine on them Turning them into drunkards That ends now I'm not here to keep them in line I'm here to keep you in line You men aren't fucking guests You'll get what I give them And be thankful for it Watch yourself, Roderick This is against the king's law You've no right to make such demands I have every right We're here under the orders of Rus Bolton Warden of the North So I will be in your halls I will be in your courtyard I will sit on your fucking council And be in your bedchamber If I bloody won't please You can't do this Little bastard You can't just do what We do what we were sent here to do You're here to keep watch on your soldiers That's all Don't act as if you're something more You are a sinner, Roderick And that's a dangerous fucking habit for a cripple Now Me and my men will take our place in your hall Well, unless you think you and your army can stop me No, you know better than that You know where we'll be This is outrageous Roderick You can't go in there We can and we will Unless you want this all to end right now Eh? I'm the only lord here Come on Ma porco Zio, ragazzi Il fatto è che siamo lord di niente Quindi Comandare uguale a non comandare qua Achievement sbloccato, tra l'altro Ma porco Dinci Grif Whitehill That snot-nosed fourthborn Parading in here like a conquering fucking hero It was bad enough when it was just the soldiers Ja We can't live with them under our roof Soiling our house I know you tried to stop them, my lord But this occupation will break our people if he drags on That's clearly what he wants We can't let that scut rule this house Like he's the cock and we're in his roost Whether he rides out on horseback Or ends up in the ground Grif Whitehill won't be here long I'll see to him Very good, my lord But Grif Whitehill isn't the beginning of our troubles Or the end of them Vediamo un po' We need to look at all the pieces Ok, vediamo sta mappa, dai Whitehill men are just in our house They've raided our lands Burnt farms and cut down our trees All the way from here To High Point How do we kill a snake then? By smashing its head Griff is in the head It's his father Vero But Griff is here We have access to him And they have Ryan Vale di sicuro più Ryan di Griff Dobbiamo rapirlo barra salvarlo You can't forsake his safety But we have to do something My lord At least give us a target to aim for Un obiettivo Un obiettivo Dobbiamo prima salvare nostro fratello Perché se cerchiamo Perché se cerchiamo ragazzi Ascoltate il mio ragionamento Se cerchiamo di scacciare Griff Probabilmente seccano il nostro fratello Se noi cerchiamo di salvare il nostro fratello Però abbiamo comunque la guarnigione qua da poi cacciare via Quindi cercare di cacciare la via prima o dopo non fa differenza L'importante è riuscire a salvare Ryan Prima che la guarnigione sappia che l'abbiamo fatto We get Ryan out And bring him home Once he's safe We can face the White Hills head on And what of Griff and his men? But we can only take this occupation for so long If you think I'm giving up on Ironwrath You're wrong By keeping this family together Ironwrath will stand Broderick is right We are nothing if we leave Ryan behind Then It's decided We're bringing Ryan back Me quedo come We still don't have the men to hold our own home Let alone Storm Highpoint We lost most of our men with Gregor At the Twins Unfortunately Roderick was not able to secure the backing of the Glenmores That means we have to count on Asher and Mira How? Asher means to sail home from Essos With a company of hardened cell All sorts But they're not Bannaman We'll need to pay them for it Which is why Mira's part to play is just as crucial She can get us the coin we need in Kingsland You don't imagine we have the luxury of waiting for them Asher and Mira are a long way from here I have faith in my children If we have to go to battle before we are ready we risk losing everything But sometimes you have no choice That time may indeed come But it's not now Speriamo che sia così Speriamo che sia così Speriamo che sia soddisfatto dell'ordine Ogni episodio comporta scelte sempre più cruciali Ragazzi Sono tentato di tornare indietro quasi A voice from high point Gwyn Whitehill Lord Whitehill's daughter The very same After the hells that came from her and Asher Despite all that She's willing to meet with you I hope you trust me enough as Sentinel to consider this It would be wise to hear what she has to say Arrange meeting What she has to say may prove useful Speriamo Va bene Mamma mia quante cose ragazzi Quante quante cose Do you want the dove pie served with a spoon of lemon cream We'll have to let the kitchen know And these flowers They're just all wrong in the crown lands Mira, are you listening to me? Lady Marjorie, good tidings to you today Thank you Lord Tyrion And you Lady Mira, a word in private if I may? I'll return her shortly Who would I be to deny Lord Tyrion? Very soon you'll be the queen And if you're anything like the current one You'll deny me all you like Please excuse me for a moment, my lady I promise I won't keep you long I don't think Lady Marjorie likes me No, credo che anche noi non piaceremo più a Lady Marjorie Perché sono stato un po' Porca miseria Ragazzi è un gioco molto Difficile da giocare Quello del trono effettivamente E giocarlo con dei personaggi così È ancora più difficile che farlo con i pezzi grossi Oddio, magari con i pezzi grossi ancora di più Però sarebbe stato figo anche usare personaggi come Tyrion eccetera eccetera Ma devo dire che mi sta piacendo molto Sono incuriosito e spero che anche voi aspetterete con ansia il prossimo episodio Che registrerò questa domenica penso E ragazzi mi raccomando se l'episodio vi è piaciuto Mi raccomando mettete qua sotto un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E consigliate il canale ad amici condividendo il video A via a tutti ragazzi E ci vediamo nel prossimo episodio di questa Campagna di questo let's play Con Game of Thrones della Telltale Games A via a tutti ancora